Il gruppo Sossegno Alzheimer Fidenza è un'associazione nata 20 anni fa dal desiderio di alcuni familiari di poter essere d'aiuto a chi come loro stava vivendo il difficile percorso di cura dei loro cari malati di disturbi neurocognitivi come l'Alzheimer. In questi 20 anni abbiamo sviluppato le nostre attività lavorando soprattutto sul gruppo perché un grande impatto che queste malattie danno alle persone e alle loro famiglie è la solitudine e lo stigma. Allora noi abbiamo attivato nel 2018 un centro di incontro che abbiamo chiamato Insieme nel quale facciamo attività per stimolare il permanere delle abilità risidue nelle persone con i disturbi neurocognitivi. Congiuntamente possiamo aiutare e supportare i familiari che durante queste attività prendono delle strategie da poter mettere in atto anche nella vita quotidiana al donicilio. Abbiamo poi affiancato negli ultimi anni un caffè Alzheimer che nasce da un progetto di rete nazionale. Ad oggi in Italia se ne contano più di 50. Il nostro obiettivo per il futuro è quello di poter estendere la nostra attività raggiungendo ancora più famiglie, ancora più persone che vivono questo difficile percorso perché non sembra ma una mano amica può risolvere la vita.